momenti di tensione politica il governo draghi rischia una nuova frattura salvini accusato da letta di fare opposizione si prospetta un tutti contro tutti con a lega che sembra diventare nodo cruciale vero e proprio partito di opposizione stando almeno alle parole di letta le ultime notizie di politica ci dicono che il governo di mario draghi ora può davvero spaccarsi vediamo quali sono i punti cardine di questo scontro e su quali questioni vertono il dl concorrenza ha messo a dura prova la tolleranza di letta nei confronti della lega e di salvini il leader del partito democratico ha infatti detto lo dico molto chiaramente l'opposizione che salvini sta facendo al governo ha superato i limite salvini e la lega sono un partito di maggioranza io credo che se si chiede a qualunque cittadino italiano cosa pensa e che impressione ha su salvini e sulla lega la maggior parte dicono che dalle posizioni che prende è diventato un partito di opposizione ha proseguito letta penso che questa vicenda va chiarita va chiarita nel senso che su tutti i temi principali ormai salvini si comporta come un rappresentante dell'opposizione è molto più opposizione salvini di altri che sono veramente all'opposizione parole da bagar che però non passano certo inosservate al leader del carroccio e ai suoi esponenti ecco infatti la risposta della lega la lega è al governo per tagliare tasse e burocrazia e questo stiamo facendo se altri hanno tempo da far perdere con legge elettorale i us soli o dolza non aiutano l'italia queste invece le parole di salvini in persona abbiamo difeso la casa i risparmi degli italiani lavoriamo per la pace in ucraina e per la pace fiscale in italia intanto letta il pd passano il tempo proponendo i us soli ddl zanne cambio della legge elettorale vivono su marte o vivono in italia grazie a tutti grazie a tutti